La Stica Fenda è questa idea di portare la musica d'autore, la musica classica di qualità nei vari luoghi dove spesso non si fa musica o non si ascolta questo tipo di musica. Spesso abbiamo incontrato amici che ci hanno detto, beh, oltre a farci ascoltare della buona musica ci fate anche scoprire dei posti nuovi, decentrati a Milano. Quindi uniamo un po' il momento conviviale, il momento di scoperta della zona dove andiamo che ha sempre delle ragioni, o appunto estetiche o sociali, delle ragioni da conoscere anche nelle nostre zone più decentrate di Milano. e poi facciamo buona musica, veramente buona musica e qui, come dire, c'è il brand muto dietro che sceglie dei personaggi. e qui, come dire, c'è il brand muto dietro che sceglie dei personaggi. e qui, come dire, c'è il brand muto dietro che sceglie dei personaggi. e qui, come dire, c'è il brand muto dietro che sceglie dei personaggi. e qui, come dire, c'è il brand muto dietro che sceglie dei personaggi. e qui, come dire, c'è il brand muto dietro che sceglie dei personaggi. e qui, come dire, c'è il brand muto dietro che sceglie dei personaggi.